Il comune di Avellino taglia i debiti e riduce ad un terzo i sinistri stradali. Maxi risparmio per le casse del comune sui debiti fuori bilancio. Quasi 2 milioni grazie agli accordi transattivi. Su 227 sinistri stradali, 120 chiusi in precontenzioso. Nel triennio precedente i risarcimenti erano stati 612. Un risparmio di circa 2 milioni di euro. La commissione contenzioso, preseduta dal consigliere di Davvero Mario Spiniello, alla presenza dell'assessore a ramo Marianna Mazza, ha svolto una puntuale ricognizione sulle transazioni realizzate dall'ente. I numeri hanno certificato il raggiungimento di importanti obiettivi. Su un totale di 15,5 milioni di euro di debiti fuori bilancio, approvati e inseriti nel piano di riequilibrio dell'ente, il comune ne ha risparmiati oltre 1,9 grazie agli accordi. Su un totale di 227 sinistri esistenti, ne sono stati chiusi 120 in precontenzioso. risparmiando anche in questo caso. Mavellino oggi è anche una città in cui si è ridotto notevolmente il numero degli stessi sinistri stradali. Nel triennio che va dall'insediamento dell'amministrazione al primo semestre del 2022, il numero degli incidenti si è ridotto ad un terzo dei 612 presentati tra il 2017 e il 2019. Risultati che il presidente Spiniello, con l'assessore Mazza, può rivendicare sulla base di numeri incontrovertibili. Ma il lavoro della Commissione non si ferma. Quest'anno verranno riconosciuti debiti fuori bilancio per 5,3 milioni inseriti nel piano di riequilibrio finanziario e 4,8 che non vi rientrano. Inoltre, rispetto ai 15,5 già riconosciuti entro la fine dell'anno scorso, l'ente li ha liquidati quasi tutti.